Il taglio del cuneo fiscale al nuovo reddito di inclusione nel decreto lavoro, ne parliamo in studio con il consigliere di un'impresa, Giovanni Assi. Il ministro ha varato il nuovo decreto lavoro, moltissime le novità, noi ne parliamo con Giovanni Assi, consigliere di un'impresa con delega lavoro e welfare, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, Assi, anzitutto quale sarà l'impatto di questo decreto sul mondo del lavoro pugliese? Una delle misure previste è sicuramente quella di creare maggiore flessibilità nel mondo del lavoro, soprattutto con riferimento ai tempi determinati, è l'utilizzo dei voucher nel settore turistico ricettivo. Se consideriamo che in Puglia su oltre 1.267.000 occupati il 50% è nel settore dei servizi, sicuramente sono auspicabili numeri importanti anche sulla falsa scia di quello che è stato nel 2021 rispetto al 2022 con più 60.000 unità. Il tetto passa, lo ricordiamo, da 10.000 a 15.000 euro per ciascuna impresa. Altra novità rilevantissima è il taglio del cuneo fiscale. Che effetti produrrà sulle buste paga? Forse possiamo vedere anche una grafica su questo. Sì, ecco, ci sono già delle prime stime. Per quanto riguarda la Puglia abbiamo una platea di circa 956.000 lavoratori dipendenti. Ovviamente i diretti interessati saranno tutti coloro che hanno un reddito fino a 35.000 euro di reddito di lavoro dipendenze. Ecco, per questi prendiamo questa fascia di reddito e in che modo inciderà? Sì, allora inciderà intanto con un'ulteriore decurtazione di 4 punti percentuali sui contributi carico lavoratore dipendente, quindi contributi previdenziali, che come possiamo vedere nelle simulazioni per redditi ad esempio fino a 35.000 euro potrà portare tra l'attuale riduzione già in atto con l'aggiunta dei 4 punti percentuali ad un risparmio mensile fino a 98,56 euro. Ma se ben sì, ricordiamo per chiarezza che questa misura è prevista dal 1 luglio al 31 dicembre. E poi si vedrà insomma se il governo riuscirà a rifinanzare la misura. Altro passaggio importantissimo, quello del reddito di cittadinanza, che viene eliminato a partire dal 2024, arriva l'assegno di inclusione. Quanti soggetti interessati nella nostra regione? In Puglia contiamo circa 100.000 nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza. Bene, di questi avranno due strade. La prima, quella che andrà in vigore dal 1 gennaio 2024, è l'assegno di inclusione. E riguarderà i nuclei, quelli più fragili, ovvero quelli con soggetti disabili, con figli minorenni o over 60 e con un ISEE non superiore a 9.360 euro. Per loro è prevista una misura fino a 500 euro mensili aumentati di 280 euro per chi paga un regolare contratto di fitto. È una misura prevista per 18 mesi e può essere prorogata una sola volta per ulteriori 12 mesi. In chiusura, velocissimi, ci sono incentivi per le imprese, per chi assume proprio i percettori dell'assegno di inclusione, ma anche i cosiddetti NIT, cioè i giovani che non studiano e non lavorano? Ecco, se una piccola critica può essere mossa a questo decreto, è proprio questa. Non c'è stata una grande attenzione rispetto al mondo delle imprese. Sicuramente quello che lei ha citato sono due incentivi importanti, quindi i giovani NIT, e quindi fino a 29 anni non studenti, oppure percettori dell'attuale reddito. Nulla invece è previsto per quelle aziende che tra tante difficoltà continuano a mantenere in forza i propri personaggi dipendenti. Grazie mille, grazie Giovanni Assi, noi ovviamente continueremo a parlare ed approfondire il decreto lavoro.